Una distesa, quella che vedete alle mie spalle, pronta ad accogliere pannelli fotovoltaici. Pensate, sono solamente i primi 40 ettari di 200 contro cui Noa si ribella. È solo il primo, questo dei 15 impianti che hanno già acquisito le autorizzazioni per poter partire. Nella minuscola Noa sono state presentate richieste per oltre 40 megawatt su un totale di 186 ettari di suoli agricoli. Praticamente più della metà dei 360 ettari che saranno votati a silicio in tutto il comune di Galatina. Nessuno di questi, ovviamente, è sottoposto a via perché tutti al di sotto dei 10 megawatt. Fino a quando non hanno visto spuntare con i loro occhi, pali e cavi, di tutto ciò i cittadini non sapevano proprio nulla. Oggi si raccolgono firme e si distribuisce la terra sacra di Noa, così la chiamano, durante la tradizionale fiera dei cavalli. Un modo per rimarcare ancora di più la differenza tra quello che si è e ciò che si rischia di diventare. La popolazione deve essere informata prima, deve poter decidere su delle variazioni importanti dell'ambiente in cui vive e non trovarsi con queste sorprese e a decisioni compiute. Un suicidio per molti. Tra l'altro gli impianti sono vicinissimi al centro abitato. Addirittura sono stati spiantati e ripiantati al margine come semplice cornice gli ulivi presenti. E anche qui i parchi fotovoltaici, come dimostra chiaramente questa cartina del piano energetico comunale, sono incastrati l'uno all'altro. Magia o dievoleria. E basta leggere questo cartello per capire qual è il mercato da tutta Italia che è qui viene di investire per il fotovoltaico. È già committente la Fotovazio SRL di Torino. La ricordate? È la stessa che ha presentato uno dei tre progetti di mega impianti a Cutrofiano. Appaltatore è la BP Solar di Milano, subappaltatore è la Terna di Roma, imprese esecutrice la SAET di Padova, ditta subappaltatrice la COGIT di Brindisi. Un groviglio di appalti e subappalti pazzesco. E riesce davvero difficile a immaginare che tra queste società e quelle titolari degli altri progetti, tra cui la Sunray e la fabbrica, non ci sia almeno un punto di contatto che spieghi questo gioco a Tetris che puntualmente fa evitare la valutazione di impatto ambientale. Un gioco però capace di modificare totalmente il destino di Noah.